Attueremo un'azione decisa e violenta sui 116 scarichi abusivi che inquinano i nostri fiumi. Queste le parole del presidente della regione Luciano D'Alfonso che ieri in occasione di un incontro confronto tenutosi presso l'acquapark di Tortoreto con l'assessore all'agricoltura Dino Pepe, gli albergatori, gli operatori turistici e tutti i sindaci della costa teramana ha annunciato una vera e propria crociata a favore dei fiumi per poter realizzare quella che dovrebbe essere la pista ciclabile più lunga d'Italia. Tanti gli argomenti esposti da D'Alfonso, erosione e difesa della costa, piano demaniale marittimo, segnaletica turistica e realizzazioni di strutture d'eccellenza a supporto del comparto turistico e ancora co-marketing con i consorsi atti alla promozione del territorio, potenziamento dell'aeroporto di Pescara, potenziamento del turismo escursionistico ed enogastronomico, riqualificazione e potenziamento della viabilità principale dalla costa alle zone interne. Sono i punti del decalogo che la Giunta regionale si impegna a realizzare per rilanciare il comparto turistico sulla costa. I sindaci, gli operatori e gli albergatori hanno lamentato i gravi problemi legati al sistema idrico, la carenza di acqua nei giorni di picco del turismo, la cattiva depurazione, l'inquinamento dei fiumi, il dissesto delle strade principali e l'assenza di una pianificazione turistica. Sull'idrico il Presidente ha ricordato gli 80 milioni di euro inseriti nel decreto sblocca cantieri e una serie di iniziative come il rastrellamento delle emergenze di dissesto, chiesto con una nota alle province, al genio civile e alle prefetture. D'Alfonso, che ha anche manifestato la volontà di insediare il Consiglio regionale del turismo, ha però sollecitato il ruolo fattivo degli operatori, li ha invitati a scatenare la fantasia e a dettagliare un piano di investimenti.